Musica Nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano Isa Danieli ha portato in scena lo spettacolo Rose e Spine di Carlo Faiello un appuntamento proposto nell'ambito di affabulazione progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura Un disegno fortemente voluto dall'amministrazione Manfredi, dal Sindaco e dalla Giunta proprio per cercare di creare il rapporto con le comunità territoriali quindi per sviluppare le municipalità per assecondare il disegno che il Sindaco ha sempre cercato di portare avanti di città policentriche, cioè una città fatta di molti centri ognuno dei quali ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità e le sue potenzialità Il lavoro di Faiello, magistralmente interpretato da Isa Danieli riassume tutto il dolore di Maria che si percepisce nei riti e nei rituali a lei dedicati in campagna storie e leggende si intrecciano a culti liturgici dove il sacro si fonde con il profano e le credenze popolari sono come il principio del fuoco che genera energia è una cosa che abbiamo fatto insieme con molte persone, voglio dire con un po' di persone, siamo pochi però c'è un'orchestra molto bella, prima di tutto e poi ci sono dei ragazzi che ballano che sono bravi ci sono due voci meravigliose di donna che cantano e io recito una poesia di Henry De Luca molto bella che riguarda il parto della Madonna e quando partorisce nasce praticamente Gesù e poi alla fine canto un pezzo della canzone di Carlo Faiello Rose e spine tra gli eventi culturali della rassegna extramenia il centro esploso a cura dell'associazione Domenico Scarlatti presieduta da Enzo Amato L'associazione Domenico Scarlatti ha inteso con queste iniziative sulla settima municipalità a proprio creare una sinergia con il territorio attraverso le sue strutture alberghiere attraverso questa vicinanza con l'aeroporto e soprattutto attraverso i suoi beni culturali e anche sociali perché Damiano con la birreria che è un luogo sia un centro commerciale ma è anche fondamentalmente un luogo di incontro importante per il territorio fino ad arrivare alla masseria luce dove tra l'altro si terranno anche due laboratori uno teatrale e l'altro musicale